Buonasera. Abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica innanzitutto la nostra soddisfazione per l'esito felice delle elezioni dei nuovi Presidenti delle Camere. L'Italia ha vissuto una grande emozione di fronte a quella che possiamo definire una prova di buona politica. Fare politica di fronte ai drammi e alle speranze dell'Italia, questo è il metodo con cui dobbiamo approcciare anche la questione del Governo. Reagendo con durezza a coloro che immaginano di trascinare il nostro Paese in una infinita campagna elettorale. Il centro-sinistra ha avuto una vittoria non piena nella ultima competizione elettorale e tuttavia ha avuto una vittoria piena alla Camera dei Reputati e forza maggioritaria nel Senato della Repubblica. Il centro-sinistra ha vissuto preventivamente una competizione interna sull'indicazione del candidato Premier. Noi pensiamo che la prova di offrire al Paese un programma e un governo che possa interpretare nella forma più innovativa le istanze di cambiamento spetti all'onorevole Bersani. Bersani non è uscito dal cilindro di un prestigiatore, il nome è uscito dalle urne di un processo democratico che ha coinvolto oltre 3 milioni di elettori. Guida il partito che nella coalizione di centro-sinistra ha conseguito i risultati che sappiamo. Poi tocca a Bersani ovviamente esprimere il suo impegno sul terreno più alto di innovazione politico-culturale. Tocca a lui essere l'interprete di tutto il coraggio di cui c'è bisogno oggi per guidare l'Italia fuori dal pantano. Grazie.